Il terzo mandato Se la sua casa sarà il Parlamento e l'Europa ancora non si sa, ma sono pronti a giurare che la strada che il Presidente della Regione prenderà è quella. Prima della pausa estiva se ne parlerà in un ristrettissimo vertice tra Vendola e Big del Partito Democratico, anche perché spiegano è necessario che i due generali del centro-sinistra si ritrovino faccia a faccia per dividersi il campo. E i due sarebbero naturalmente Vendola e Michele Emiliano. È difficile immaginare infatti che il Sindaco di Bari sia disposto ad accettare il salto al Parlamento europeo, visto che da tempo, come è noto, è il candidato in pectore del centro-sinistra. Di sicuro non saranno primarie tra i due, il perimetro sarebbe troppo stretto per due personalità come loro, per questo occorre ritrovarsi l'uno di fronte all'altro per capirsi. Non è troppo presto, quindi per parlarne, anche perché le europee sono il prossimo anno e in tutto questo si innesta il futuro di Sinistra Ecologia e Libertà, un progetto che ai suoi fedelissimi Vendola ha definito arenato. La fusione con il PD è un'ipotesi sulla quale si sta lavorando. Vendola sarebbe in contatto con i democratici che intendono dare un taglio al passato, legacy Pippo Civati, per dirne uno. I ragionamenti insomma vanno improntati già da ora, almeno nelle segrete stanze. I commenti sono tutt'altra cosa. Per il capogruppo del Partito Democratico Pino Romano, Vendola è un leader nazionale e la sua stagione da governatore non è affatto chiusa. Si valuterà insieme sebbene i tempi non siano maturi. La pensa così anche il segretario regionale del PD Sergio Blasi. Io sono per fare una cosa per volta. Quando arriverà il momento? Dal centro-destra invece l'ipotesi è da bocciare senza appello. Per Andrea Caroppo, Puglia prima di tutto la notizia conforta gli italiani, evidentemente, dice, ha rinunciato all'ambizione di far danni oltre i confini regionali. Ma come pugliese, aggiunge ancora Caroppo, non può non sconfortare perché in otto anni la Puglia si è impoverita. Sulla stessa linea il commento del coordinatore regionale del MIR, Paolo Pagliaro, sapere che esiste una seppur lontana possibilità di un terzo mandato di Nichi Vendola, proprio quando l'Istat dà al secondo posto la Puglia per la povertà delle famiglie, non può che suscitare un sentimento di sconforto in chi crede ancora nella capacità di riscatto del nostro territorio. Forse a noi moderati del centrodestra conviene sperare nella ricandidatura del leader di SEL, che, conclude Pagliaro, sicuramente avrebbe cartellino rosso dai pugliesi, anche se non amiamo vincere facile e non ne avremmo nemmeno bisogno.